buongiorno ragazze ciao a tutte e a tutti nuovo video motivazionale ovvero video pulizie sulla mia camera della mia camera scusate questo voleva essere un video motivazionale anche se per me veramente non sono molto motivazionale nel pulire la casa però vabbè dettagli allora eccomi qua dunque vi stavo dicendo che qua stavo sistemando tutto il mio comodino e tutto il resto dopodichè eccomi che qua sistemo anche l'altro comodino come volevo dire da prima pulisco tutto computer portatile tutto quanto tablet ogni cosa che c'è da suo comodino vedete il video velocizzato perché non voglio di annoiarvi semplicemente perdonate ma non voglio annoiarvi troppo quindi lo faccio un po più breve comunque qua sistemato quasi tutto non faccio questa velocità nella realtà ci mancherebbe ovvio però per velocità dei tempi ho voluto fare così ho sistemato un po di cose tra scrivani eccomo e poi in breve vi farò una breve panoramica di come è rimasta la mia camera dopo tutto l'ordine che è la pulizia che ho fatto ovviamente come giusto che sembra già ok allora ragazze dunque lì stavo cercando di sistemare un paio di cose cioè di andare a prendere i prodotti per pulire o spazzare la mia camera addirittura la parla in terra eccomi qua qui sto andando mi sto cingendo a pulire non so se vuol dire mi sto cercando di racimolare del tempo prezioso per poter pulire sia vabbè prima ho cambiato idea volevo pulire solo una parte della scrivania e poi ho detto no puliamo tutto il resto della scrivania e non se ne parla più quindi ho pulito sia la parte del computer fisso che poi anche dove tengo profumi creme cremine cose varie anche la cassettiera ho pulito tutto il resto non tutto quanto una buona parte perché ragazze non ce la facevano troppo stanca tra l'altro non è ma ho il ciclo sì ma ho detto è così quando sono così con il periodo del palloncino rosso troppe cose non ce la faccio a farle quindi faccio come dico sempre quello che posso nel limite del possibile poi mi vedete rimettere tutto a posto ognuno a suo posto ogni volta anzi ogni tanto io cerco di cambiare posto le cose perché io odoro cambiare si spostare tante cose eccomi qua aggiunta quasi al termine del video qui sto cercando di mettere a posto anche il mio comodo lo spolvero tutto quanto ogni cosa che prendo la pulisco la ripulisco perché non sono una malatta del pulito però della pulizia non sono maniacale però cerco di tenermi ordinata e pulita appunto nel limite del possibile e anche lì sto spolverando e ripassando lo spruzzo della dexal vi faccio anche vedere che cosa sto utilizzando ecco qua il dexal non so se ve lo faccio vedere o meno ma ci sarà una scena dove vi faccio vedere che ho utilizzato il dexal esatto sempre se è così perché non mi ricordo ho talmente girato questo video non dico con fatica ma quasi eccomi qua una breve panoramica di quello che ho combinato questa è la mia camera e niente eccomi qua dunque dunque qui sto lavando come vedete ho anche spazzato tutto qui tutto quanto scusate l'impappinamento io vi saluto like grazie commentino e iscrivetevi e attivate la campanella ciao